Nicola stia la mente della pizza egistiana. Allora Nicola, dì la tua, la pizza con gambe di tono, cosa hai contro questa pizza? Non la partitura, la partitura è buona, ma l'impasto. L'impasto è diverso perché la pizza egistiana non è italiana. Non mi interessa, non mi interessa. Mangi lazza!